Rolex GMT Master 2 Batman, l'icona dell'eleganza e della funzionalità. L'orologio da polso Rolex GMT Master 2 Batman è un vero capolavoro dell'orologeria di lusso. Un oggetto che coniuga bellezza, funzionalità e un tocco di fascino ispirato al leggendario supereroe dei fumetti. Questo straordinario orologio è stato creato per rappresentare al meglio l'essenza di Batman, utilizzando sapientemente il nero e il blu per catturare l'immaginario del Cavaliere Oscuro. Il nome, Batman, è un omaggio a uno dei supereroi più iconici e amati di tutti i tempi. Questo orologio, con il suo quadrante nero, evoca l'oscurità e il mistero che circondano l'alter ego di Batman, Bruce Wayne. La lunetta blu e nera richiama il suo costume caratteristico, ricreando in modo sorprendente l'estetica di un'icona dei fumetti. Questa combinazione di colori crea un contrasto affascinante e un design distintivo che è immediatamente riconoscibile. Oltre alla sua straordinaria estetica, il GMT Master II Batman di Rolex è dotato di funzionalità avanzate che lo rendono uno strumento di precisione indispensabile per i viaggiatori internazionali. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo orologio è la funzione GMT, che consente di visualizzare due fusi orari contemporaneamente. Questa funzione è particolarmente utile per chi attraversa continenti e fusi orari, permettendo di tenere traccia con facilità dell'ora locale e di quella di casa. La ghiera girevole bidirezionale, con la sua combinazione di colori nero e blu, non solo aggiunge un tocco di estetica alla composizione dell'orologio, ma fornisce anche un'indicazione chiara e intuitiva del secondo fuso orario. La lancetta GMT Blue, in coordinamento con il colore della lunetta, sottolinea ulteriormente l'aspetto funzionale e allo stesso tempo elegante di questo orologio. Indossare un GMT Master II Batman di Rolex è molto più di un semplice atto di moda. Significa abbracciare lo spirito del Cavaliere Oscuro, portando con sé un simbolo di forza, stile ed eleganza. Questo orologio è un pezzo di storia dell'orologeria, una creazione che continua a ispirare e affascinare, proprio come il supereroe a cui rende omaggio. Il Rolex è molto più di un semplice accessorio. È un'icona, un'opera d'arte, un simbolo di status e di una passione per la bellezza e la precisione.